buongiorno a tutti ragazzi oggi è 10 settembre siamo qui con Giovanni vedete se l'hai trovato abbastanza ora vi farò vedere la borsina è piena di capitano e qui c'è un bel pezzo da sbarbare insieme vediamo questo è veramente un bel esemplare guardate che gampo bello spettacolare un mostro bellissimo qui c'è una bocca di un cinghiale un saluto a tutti